Asturias è un brano eccezionale, bellissimo, molto complicato, però le prime note, l'inizio, non dico che lo può fare chiunque, ma quasi ed è molto scenico perché è fatto di ribattuti le due mani che suonano le note velocemente e in note molto ravvicinate, a volte si devono accavallare le mani, perciò è veramente un pezzo unico Il brano nasce nei primi anni del 1890 durante un soggiorno londinese del compositore Albanitz Nonostante il titolo sia Asturias, non c'è una correlazione con le tradizioni musicali delle Asturie Nella Spagna settentrionale c'è il principato delle Asturie Inizialmente il brano però non aveva questo titolo, si chiamava semplicemente Preludio ed era all'interno di una raccolta che si chiamava Cantos de España Scusate la mia bellissima pronuncia, solo in un secondo momento poi il brano prende il nome di Asturias che è quello che tutti noi oggi conosciamo come il quinto movimento della suite spagnola Leyenda Avrai sentito suonare sicuramente anche dai chitarristi e la domanda che viene spontanea è ma è un brano chitarristico che è stato poi trascritto anche per pianoforte o è un brano che è nato per pianoforte e poi è stato trascritto per chitarra? La seconda opzione, il brano nasce per pianoforte però si presta molto bene anche di esecuzioni chitarristiche e diciamo che forse il brano è diventato più famoso per chitarra che per pianoforte Te lo faccio ascoltare Altro brano molto simpatico e divertente e che fa molto preso al pubblico è Chopstick È un valser, valserino semplice, è stato scritto nel 1877 ed è l'unico pezzo che noi abbiamo pubblicato dal compositore londinese Allen con pseudonimo di Arthur De Lulli Allen era il fratello dell'editore musicale che gli pubblicò il brano e lui lo scrisse quando aveva 16 anni quindi diciamo anche un talento precoce Te lo faccio ascoltare Alla prossima Conosci la colonna sonora dell'esorcista? Penso che sia una delle introduzioni pianistiche più terrificanti di sempre Terrificanti nel senso buono, nel senso che fanno paura Ecco questa sicuramente fa tanta scena Sembra che faccia tante cose il pianoforte in realtà fa sempre quelle 4-5 note sempre con lo stesso ritmo quindi una volta che ho imparato quelle vai liscio Il titolo di questo brano è Tavular Bells come al certo le mie pronunce sono le migliori ed è omonimo dell'album che pubblicò anche Mike Holfield Il titolo di questo brano è il titolo di più grande Struggle for Pleasure è un altro brano che sicuramente ha delle difficoltà ma rende molto di più rispetto a quello che chiede tecnicamente all'esecutore pubblicato nel 1983 dal compositore Wim Mertens il brano più che per essere famoso per se stesso è famoso perché è stato utilizzato molto in film, nelle pubblicità addirittura c'è una compagnia telefonica Vega che la utilizza nelle sue pubblicità nella musichina di sottofondo quando ti fa attendere ed è molto famoso perché è stato utilizzato anche nel film Il ventre dell'architetto si lo so un titolo strano però lasciami 5 secondi che ti racconto un attimo la storia di questo film la storia di un architetto americano che arriva a Roma con sua moglie incinta per organizzare una mostra di architettura durante il suo soggiorno però bruttissima notizia scopre di soffrire di una forma terminale di cancro al pancreas allora cerca di cancellare in tutti i modi questa bruttissima notizia l'unica cosa che gli alleva un po' il dolore è appunto il fatto che fra poco nascerà suo figlio e nel corso del film vedremo il protagonista, questo architetto che si circonda in modo maniacale di immagine, di statue, tutte robe che contengono ventri perché è ossessionato e mentre l'architetto sta letteralmente impazzendo per questo problema fa scenate pubbliche eccetera eccetera la moglie intanto si invaghisce di un ragazzo italiano e addirittura questo ragazzo italiano riesce anche a estromettere l'architetto statunitense che soffre di questa bruttissima malattia dalla dall'organizzazione di questa mostra insomma il film finisce poi col protagonista che si toglie la vita insomma non è un film dove si sprizza gioia da tutti i pori però penso che era curioso sapere da dove cavolo arriva questa musica che sentiamo spesso te la faccio sentire insomma non è un film che si toglie la vita insomma non è un film che si toglie la vita e infine voglio presentarti questo preludio di un o una compositore francese non ho capito bene se è maschio o femmina nel senso che ha questo nome d'arte e qui non si capisce se è maschio o femminile dove ci sono degli incroci di mano il brano di per sé è lento non è veloce però questi incroci di mano molto eleganti e raffinato il brano di per sé molto raffinato rendono l'esecuzione speciale te lo faccio ascoltare e secondo me vale la pena di studiarlo grazie a tutti bene il video è terminato in descrizione del video puoi trovare tutti i link agli spartiti così potrai accedere, scaricare i spartiti e te li potrai studiare in modo tale da imparare l'incipit di tutti questi pezzi proprio per fare il figo con chi ti ascolta spero che questo video ti sia piaciuto se si metti like, commenta io spero di risponderti il prima possibile e ci vediamo nel prossimo video ciao voglio ciao 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 ciao